me lo presento lui è trollo ha otto anni si otto anni mi prego non fermatevi di fronte ad un numero andate oltre passate avanti perché poco più in là di una erata convinzione c'è molto di più c'è un intero mondo da scoprire da riempire trollo non ha mai avuto niente dalla vita trollo ha vissuto quasi tutta la sua esistenza in canina e non istante questo è straordinario il tutto è bello buono va d'accordo con tutti i suoi simili ama il contatto con le persone e sempre la ricerca di coccole è un cane eccezionale bello da fare invidia a tanti giovincelli è strepitoso delicato elegante tranquillo trolle un cane speciale ha tante doti e tante qualità un cane tale portata non può non essere preso in considerazione soltanto per la sua età non sapete cosa vi state perdendo trollo rischiava di essere trasferito in un canine privato uno di quei canini dove dei cani poi si perdono completamente le tracce dove vengono dimenticati dove perdono il nome e diventano un codice un numero e mezzo a tanti numeri infiniti e senza possibilità non potevamo permettere che questo accadesse proprio a lui e quindi noi settteristi l'abbiamo accolto con la speranza di trovare al più presto una famiglia amorevole una famiglia composta da persone che sappiano andare oltre e che lo accolgano per non tradirlo mai più